Il coraggio di cambiare tutto è il nome dato al programma su cui poggia la candidatura di Franco Laratta alla segreteria provinciale del Partito Democratico di Cosenza. Idee chiare, decise e presentate nel corso di una manifestazione ospitata dal cinema modernissimo. Le linee guida del programma Larattiano sono state illustrate al pubblico presente, tra cui i massimi rappresentanti regionali del partito, sostenitori e simpatizzanti. Svecchiamento del PD, la parola d'ordine di Franco Laratta. L'elemento di rottura è che il PD non c'è, quindi il PD non è mai nato in Calabria, è stato un partito che ha sofferto tanto, commissariato da tre anni, di fatto sul territorio non esiste. La rottura è proprio la rottura con questo modello, con questi ritardi, con un partito che non dice più nulla, con un partito che ha sofferto tantissimo. Noi proponiamo un partito moderno, aperto, giovane, profondamente cambiato, che investa su nuove classi dirigenti, che dia una prospettiva ai giovani calabresi. Che apre le proprie sede al dibattito, al confronto. Basta risse, al partito non servono risse. Noi siamo qui, ci mettiamo in gioco. Io personalmente mi sono messo in gioco. Ci voglio dire, non credo che la mia aspirazione fosse quella di fare il segretario provinciale, ma mi chiedono di dare una mano al partito. Io voglio fare il segretario provinciale per aiutare il partito, non per aiutare me stesso che non ne ho bisogno, ma per aiutare questo partito a crescere in provincia di Cosenza. E se nasce il Partito Democratico in provincia di Cosenza, trascineremo tutta la Calabria e ci prepareremo per le elezioni regionali. Senza il PD non si governa più la regione. Scopelita ha fallito, la destra ha fallito, c'è bisogno di mettere in campo un nuovo e forte soggetto politico che parli ai calabresi. Questo è il PD che io penso e questo è il PD che vogliamo costruire tutti quanti insieme. Il PD, a dire di la ratta, deve cominciare ad esistere. Un partito fantasma, così lo descrive, vanificato nella sua materialità dalle elacerazioni interne esistenti. Io credo che non esista perché è nato malissimo in Calabria, è nato da una sconfitta alle elezioni regionali del 2010, è nato da una serie di lacerazioni che hanno portato poi al commissariamento ed è nato anche per responsabilità di quella classe politica calabrese che non ha voglia di cambiare, pensa di perpetuare per sempre un modello di un tipo di partito che non esiste più. Il novecento è finito, noi ancora parliamo di strumenti vecchi, di strumenti che non parlano più al cuore dei giovani, ad esempio ma com'è possibile che soltanto il 10% dei giovani votano il PD in Italia? È una follia, c'è qualcosa che non va ed ecco perché allora ci sono gravi responsabilità ma chiudiamo con questa responsabilità, mettiamoci insieme un grido quindi di condivisione, sebbene potremmo anche avere punti di vista diversi ma di condivisione per dare finalmente alla Calabria col congresso regionale il nuovo Partito Democratico. Nella fase congressuale che attende il Partito Democratico la RAT si prepara perciò alla sfida per la guida in provincia del partito che lo vedrà contrapposto a Luigi Guglielmelli.